Chi è mafioso non vive da cristiano. Chi è mafioso non vive da cristiano perché bestemmia con la vita il nome di Dio amore. Oggi abbiamo bisogno di uomini e di donne di amore, non di uomini e donne di onore, di servizio, non di soprefazione. Abbiamo bisogno di uomini e donne di camminare insieme, non di ricorrere il potere. Se la litania mafiosa è «tu non sai chi sono io», quella cristiana è «io ho bisogno di te». Se la minaccia mafiosa è «tu me la pagherai», la preghiera cristiana è «Signore, aiutami a mare». Perciò, ai mafiosi, dico «cambiate, fratelli e sorelle». Convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, io vi dico a voi, mafiosi, se non fate questo, la vostra vita stessa andrà persa e sarà la peggiore delle sconfitte. Grazie. 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 Grazie.